Il settore agricolo si lecca le ferite provocate dal maltempo di domenica. Aveppa concluderà entro la settimana le perizie per la stima dei danni a colture e infrastrutture per attivare il Fondo Nazionale Calamità. La Grandine ha colpito specialmente nel Veronese, colpendo il 5% della Val Policelle facendo danni anche ai kiwi. Nell'Alta Padovana parziali danneggiamenti a viabilità, tetti di case, stalle e annessi. Sui colli eugane i locali smottamenti ma non danni particolari alle colture. Nella bassa la grandinata è stata più circoscritta con allagamenti temporanei e blackout prolungati per la caduta di alberi e pali della luce. Nel Vicentino danni limitati a mais e soia nei comuni di Carrè e Sarcedo. A Breganza il vento ha danneggiato le strutture portanti di alcuni vigneti. Proprio il vento è stato uno degli elementi caratterizzanti della perturbazione, con punte tra i 90 e i 100 chilometri all'ora tra il Veronese e il Vicentino. Sfiorati gli 80 tra Galzignano e Ospedale Teoganeo, 68 a Breganza e 57 a Bassano, con decine di località che hanno registrato raffiche superiori ai 50. Le piogge più intense e abbondanti sono cadute nella zona pedemontana tra Schio, Malo, Tiene e Piovene Rocchette, con un massimo di 88 millimetri a Monte Summano, di cui 75 in una sola ora. Un ubifragio è stato registrato a Galzignano e Campagna Lupia con 60 millimetri. In diversi casi i valori registrati sono dei record per singola località, rientrando tra i dieci episodi più intensi mai registrati in tutto il Veneto negli ultimi 35 anni.